Operai al lavoro oggi dinanzi la Basilica di Colle Maggio, ma è quasi tutto pronto perché il 23 ci sarà qui la serata inaugurale con l'accensione del bracere che darà il via alla perdonanza numero 730 in maniera ufficiale e poi lo spettacolo iniziale di apertura della perdonanza scritto dal maestro De Amicis Paolo Lolli. La novità però di quest'anno è il palco, un palco che lascia completamente aperta la visuale della straordinaria Basilica di Colle Maggio, una scelta importante quella del comune dopo le polemiche che negli anni scorsi hanno alimentato il dibattito cittadino proprio perché il montaggio del palco, un palco maestoso per ospitare musicisti e anche una grandissima orchestra copriva la gran parte della facciata. Quest'anno quindi stop alle polemiche, una situazione, una soluzione che accontenta certamente tutti, aquilani e turisti. Dopo le polemiche degli scorsi anni cambia il palco del Teatro del Perdono di Colle Maggio che dal 23 agosto ospiterà la maggior parte degli appuntamenti serali della perdonanza, un palco scoperto e apribile al centro che lascia dunque visibile la Basilica. Le polemiche erano proprio su questo, sul fatto che il montaggio del palco oscurasse completamente la visuale, così resta intatta, non si rinuncia allo spettacolo. La Basilica sarà scoperta quindi anche durante il corteo. Il posizionamento del palco, soprattutto quello dell'anno scorso, leggermente più arretrato rispetto al passato, aveva provocato polemiche e un dibattito serrato. L'opposizione aveva fatto sulla polemica, prendendosela con l'amministrazione, ma era intervenuta nel vivace dibattito addirittura il critico d'arte Vittorio Sgarbi, a polemizzare anche lui sulla non visibilità. Il PD invece, in occasione della visita del ministro della cultura San Giuliano in città, aveva fatto appello proprio a lui, affinché per questa edizione che sta per iniziare si pensasse ad una soluzione diversa, cosa che l'amministrazione quest'anno ha scelto di adottare. Anche quest'anno, inoltre, il prato dinanzi a Colle Maggio sarà coperto da una pavimentazione in plastica, lavoro in corso, per non rovinarlo e renderlo calpestabile senza far danni, perché anche le condizioni del prato post perdonanze sono state spesso negli anni oggetto di critiche.